Il primo maggio è la festa dei lavoratori, ma quest'anno a Treviso avrà un sapore diverso, perché per la prima volta sul palco, accanto ai sindacati, ci saranno i rappresentanti di tutte le associazioni imprenditoriali della provincia, industriali, artigiani, commercianti, agricoltori e cooperative, insieme al mondo del volontariato, tutti uniti dunque contro la crisi che morde ogni settore. C'è anche l'unindustria, vuol dire che la situazione è gravissima. Se ricordiamo il numero delle ore di cassa integrazione, 5.478 mai avuti nella storia della nostra provincia, la realtà è grave, cioè grave perché perdiamo posti di lavoro, non ci sono assunzioni, ma non vediamo prospettive. 25.000 disoccupati nel 2012, 8.000 lavoratori licenziati nella marca, con una media di 656 ingressi in mobilità al mese, mentre ogni giorno si registra una crisi aziendale. Di fronte a questo scenario la parola d'ordine è coesione, quella coesione, invocata anche dai vescovi del Triveneto. Sicuramente c'è una grandissima sintonia con questo tipo di messaggio, dalla crisi non si esse ciascuno per conto proprio, la solitudine è l'anticamera del suicidio e quindi sotto questo profilo noi abbiamo dato un messaggio che si esse solo e soltanto unendo le forze. Il corteo del primo maggio partirà alle 9.30 dalla stazione e si snodderà per le vie del centro fino a raggiungere Piazza dei Signori, dove sul palco uno dopo l'altro si avvicenderanno le voci della crisi, interverrà un lavoratore del commercio, uno del settore pubblico e uno di quello privato, ed ancora un lavoratore giovane e uno immigrato, che racconteranno le diverse facce del mondo del lavoro e della crisi. Tra un intervento e l'altro quelli dei tre segretari generali che avranno accanto a loro gli imprenditori, perché, dicono i sindacati, tutti i settori sono colpiti dalla crisi e nessun comparto può esistere senza gli altri. O capiamo che è sul lavoro che bisogna investire, altrimenti questo Paese non ha prospettive per uscire dall'attuale crisi.